Siamoci qua ragazzi, allora parliamo di un'altra eliminazione della Roma, tanto ormai qua andiamo anni e anni di eliminazione, eliminazione, eliminazione Quest'anno non solo non arriviamo in semifinale ma usciamo addirittura agli ottavi come due anni fa contro lo Spezia Questa volta perdiamo 2-1 in casa per giunta contro il Torino che vince per la seconda volta consecutiva allo Stadio Olimpico Allora io premetto fino a subito che per me la prestazione c'è stata a livello di gioco, la squadra ha giocato abbastanza bene Abbiamo avuto le nostre occasioni, siamo stati decisamente meglio rispetto alla partita col Cagliari Quello che però io non capisco è, non sto certo dando la colpa solo a questo giocatore e a questo episodio Però non capisco perché, continuano a far tirare i rigori a Dzeko Allora, Dzeko, 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 allora Dzeko, come tutti sappiamo l'attaccante è molto controverso Segna, sbaglia tanti gol, fa partite da 8, partite da 4, però su una cosa siamo sicuri, su una cosa siamo tutti d'accordo I rigori non sa tirarli Poi per carità, bella parata al portiere, ma i rigori non sa tirarli Ne ha tirati 6, ne ha sbagliati 5, ne ha sbagliati Ma non dico, ma dico sul serio, ne ha sbagliati Col Crotone, oggi, con lo Spezia, con l'Udinese Quanti ne deve sbagliare per far capire che lui è mongolo quando tira i rigori? Io, veramente, non capisco perché continuano a farli tirare considerando oltretutto che c'era per 8 in campo Ok l'ha sbagliato col Cagliari, ma non può sbagliarli sempre Lui è più bravo di Dzeko a tirare i rigori perché gli ha fatto tirare i rigori a lui E vabbè, è questo quello che mi dà fastidio, principalmente Perché la prestazione, come ho appena detto, c'è stata Le occasioni ce le abbiamo avute, ma dobbiamo metterla dentro Se tu non la metti dentro neanche su rigore Rigore, tra l'altro, anche molto generoso Ti ha dato un rigore generoso, puoi rimetterla sui tue binari E lo sbagli Dopo è normale che perdi Perché soprattutto dopo quell'episodio è arrivato il 2-1 di Schick Un bellissimo gol Che ha premiato una prestazione buona dello stesso giocatore E allora il rossicamento diventa doppio E poi diventa quadruplo il rossicamento Quando vedi che ancora una volta prendiamo quei cazzo di pali Allora io non voglio fare il rossicone che dice Eh, è colpa dei pali Colpa della sfiga Perché i pali vuol dire anche che tu devi essere un po' più preciso Però veramente è una cosa sconcertante Per me il Torino non meritava assolutamente di passare Con tutto il rispetto Abbiamo giocato entrambi con le riserve, per carità Però non hanno fatto nulla più di noi Anzi hanno fatto molto di meno Credo che abbiano fatto 2-3 tiri in porta I due gol e l'occasione di Lincoln alla fine Che ha avuto Perché la Roma era tutta rigettata in avanti Per il resto il Torino ha fatto una partita sufficiente Secondo me la Roma ha giocato meglio Ha giocato con più grinta, più determinazione Le riserve per una volta mi sono piaciute Hanno proposto un bel gioco Qual è il problema però? È che perdiamo sempre l'attenzione negli episodi più importanti Per esempio Abbiamo preso il palo E poi segnano loro Abbiamo preso il palo E risegnano loro su una disattenzione difensiva Abbiamo un rigore E non lo segniamo Dopo non ci possiamo attaccare agli episodi Perché siamo anche noi stupidi Che non riusciamo a metterli a nostro favore Non so se avete capito il discorso Non è possibile che noi Prendiamo palo Subito dopo il Torino segna Su una disattenzione colossale di Gonalon Che veramente io vi giuro È in assoluto il peggiore Di tutta la Rosa Fino a questo momento Veramente è il peggiore Non c'è una partita che mi abbia soddisfatto Oppure in quelli sufficienti Ha fatto comunque anche una sua cazzata Questo è quello che non capisco Perché deve perdere la disattenzione Il primo gol è totalmente colpa sua Si dimentica il giocatore Skrupski para Quello tranquillo De Silvestri colpisce e la mette dentro 1-0 E questa è la cosa che mi dà fastidio Perché questa partita si è decisa Solo sugli episodi Rigore sbagliato Due pali Errore di Gonalon Così si è decisa Per me in campo non c'è stata assolutamente Una supremazia del Torino Anzi la supremazia Ce l'abbiamo avuta noi Nonostante dall'inizio Mancassero i vari Alisson Florenzi Manolas Fazio Kolarov De Rossi Nengolan Perotti Dzeko Ci mancava Non metà squadra Di più Tre quarti di squadra Eppure siamo riusciti a giocare bene E questo è quello che mi dà fastidio Poi devo dire anche un'altra cosa Allora Come vi ho appena detto C'è stato molto turnover E io non capisco perché Ci sia stato così troppo Per carità come ho appena detto La prestazione c'è stata Però secondo me Un Perotti dall'inizio Un Nengolan So che giocano molto spesso Però Essendo partita secca Tu dovevi portartela a casa Secondo me Dovevano giocare di più O quantomeno qualcuno Doveva partire più titolare Cioè abbiamo messo praticamente Tutte le riserve Secondo me per passare Dovevi mettere a meno Qualche titolare in più Che ti avrebbe dato freschezza E ti avrebbe segnato I gol che avresti dovuto fare Alla fine si è visto Alla fine abbiamo attaccato solo noi Solo che purtroppo Non ci va dentro Quello che Che possiamo farci Quello purtroppo Non ho niente da recriminare Sotto questo punto di vista Quello che mi dà fastidio Però è che abbiamo buttato Ancora una volta La competizione Che in questo momento Anzi Negli ultimi anni È la più facile Perché la Coppa Italia Tu puoi anche sfruttare Il fatto che molte squadre Non ci puntano Puoi fare tranquillamente Ottavi, quarti Semifinale, finale E puoi anche provare a vincerla Considerando oltretutto Che dopo ti puoi giocare Anche la Supercoppa Invece no Io non so Se Di Francesco Ha voluto sottovalutare la Coppa Magari non gli ha voluto dare importanza Ok sabato c'è la Juve Ma la Coppa Italia È comunque una competizione Noi rischiamo tantissimo Anzi secondo me Sarà sicuramente così Che noi per un altro anno Non vinciamo un cazzo Non è possibile Che negli ultimi anni La Lazio ha vinto Due Coppi Italia Una Supercoppa Il Napoli Due Coppi Italia Una Supercoppa Il Milan Il Milan Con tutto rispetto Ha vinto una Supercoppa Ragazzi Ma È questo quello che non capisco Perché non c'è quella mentalità Di voler andare avanti Fino alla fine Almeno in queste competizioni Ma che pensate Che vinciamo lo Scudetto Pensate che vinciamo la Champions Sì Sti discorsi Non li capisco Niente ragazzi Allora Finora L'unica big Che non è passata Siamo noi L'Inter ha sofferto Come è passata Il Napoli ha giocato così Così mi è passata La Juve al 99% passerà Sono passate tutte L'ultima che rimaniamo Fuori Siamo noi Prestazione sufficiente Prestazione non sufficiente Per me l'importante comunque Oggi era passare E basta Sono soddisfatto della prestazione Mi sono piaciute le riserve Però dovevi vincere Sono contento perché Scic ha trovato il gol Magari si è sbloccato Anche lui mentalmente Però Così non si va da nessuna parte Con questi errori singoli Con anche un po' di sfortuna E con i rigori Che continuiamo a sbagliare Io Per me è giusto Che siamo usciti Cioè la prestazione c'è stata Per me abbiamo giocato meglio Ma se non sfrutti questi episodi E fai queste cazzate individuali La sconfitta ci sta Fine Bene ragazzi Ci vediamo presto per le pagelle Un saluto E sempre Forza Roma Ciao ragazzi